Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Che c'è da dire? Ieri per fortuna l'abbiamo portata a casa perché ce l'avevo qua questa partita Da ottobre ce l'avevo qua, come penso voi tutti E quindi ho goduto parecchio nel vincere Non tanto perché questa stagione non è niente di particolare, anzi è fallimentare, ve lo dico già A livello economico la Juventus non se la passa bene E occhio alle manovre economico-finanziarie che la Juventus farà Perché è possibile una ricapitalizzazione più avanti a ottobre Sarà, è molto probabile insomma vedere anche tante plusvalenze e operazioni in uscita Che spero che non siano di quelle plusvalenze che tu metti a bilancio il numero però non ti entra un centesimo Cioè vanno bene gli scambi, vanno benissimo gli scambi però certe eccessioni devono essere di natura economica Cioè deve arrivare il cash, la cassa deve suonare Perché altrimenti ragazzi è un casino Il problema della liquidità lo risolvi solamente con le entrate in moneta Poi possono arrivare dei pagamenti dilazionati, tutto ciò che volete Ma deve entrare del denaro, del denaro nelle casse della Juventus C'è anche da dire che a fine anno arrivano i premi della Serie A e dell'eventuale qualificazione in Champions League Che non guastano C'è anche da dire che la Juventus dovrà fare a meno delle entrate dagli abbonamenti Che sono quelle che ti danno veramente un ampio rispiro per il mercato Perché con quelle entrate hai subito dai 30 ai 40 milioni di euro nelle tue casse E quindi insomma signore la situazione economica non è delle migliori E quindi centrare la qualificazione in Champions League adesso è il nostro obiettivo primario Senza troppi affanni con un ritrovato Paolo Di Bala Ed è anche di lui che andremo a parlare in questo video Quindi signori la situazione economica è questa qua Per questo vi dico che non possiamo fallire l'appuntamento qualificazione Champions In nessun modo In nessun modo non possiamo fallire questo appuntamento qua ragazzi Perché la macchina Juventus ha dei costi fissi Che sono troppo elevati Con l'Europa League non riesci a tenere questi costi qua Devi per forza arrivare in Champions per dare sostenibilità all'attuale progetto Poi è ovvio che quest'estate vedremo un ridimensionamento del tetto in Gaggi Del monte in Gaggi con delle cessioni E quindi si andrà secondo me a giocare sulla linea verde Prendere dei giocatori molto molto giovani Che sono in grado comunque di dare il proprio contributo di alto livello Ma con un basso stipendio E credo che sia questa la strategia che ci aspetta Visto il periodo e visto il momento Però signori Parliamo di ieri e della partita di ieri Un monumento a Federico Chiesa Un monumento a Federico Chiesa va fatto E vi devo anche tirare le orecchie Perché io con i giudizi assoluti non mi ci ritrovo Perché il campo parla e il campo porta spesso a cambiare idee E io ragazzi capisco anche chi mi diceva Io lo odiavo, lo criticavo Però mi devo ricredere Bene, sono contento di questo Ma questo vale per qualsiasi giocatore E ci arriviamo Chiesa ragazzi è un giocatore di mentalità straordinaria Anche io non mi aspettavo questo impatto devastante Non mi aspettavo questo Federico Chiesa qua Però secondo me aveva delle attitudini E delle caratteristiche mentali importanti In campo è veramente un figlio di buona donna Ve lo dico nel buon senso del termine Perché essere cattivi in maniera agonistica Ti porta insomma a dover performare sempre A dare il massimo A spingere la macchina a 200 all'ora E questo è quello che sta facendo Federico Chiesa quest'anno Sta brillando, 8 gol e 8 assist in campionato Quindi ci sono anche più gol in Champions League L'avete visto anche nella doppietta col Porto Federico Chiesa ragazzi ha un apporto Molto molto impattante in questa Juventus È un giocatore che non possiamo veramente ormai Non è che possiamo tirarlo fuori e metterlo da parte È un giocatore fondamentale E vi dico ruba l'occhio Meno per esempio di un Douglas Costa Che godeva di tanta buona stampa E di buona tifoseria Che lo voleva e che lo amava Io ragazzi vi dico che Douglas Costa Visto dal vivo è uno dei giocatori più devastanti Che io abbia mai visto L'ho visto nel finale di stagione del 2018 Dove ci fece vincere lo scudetto lui Perché a fine anno nessuno ne aveva più tranne lui L'ha risultato devastante Però questo Federico Chiesa di inizio anno Ad oggi che è devastante Che è un martello Pum 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 E ha una gamba Ha una capacità fisica Di resistere anche a certi infortuni È sempre stato molto continuo A me sono questi i giocatori che piacciono La verità è questa La verità è questa Capitolo Paolo Di Bala Ieri è entrato e ha fatto un gol Meraviglioso C'è poco da fare Nessuno pensa o crede Che Paolo Di Bala non abbia talento Anzi ne ha così tanto di talento Che c'è la delusione in tanti di noi E il ramarico Di non averlo visto esplodere Come noi tutti avremmo voluto vederlo Cioè è vero Io mi aspettavo un'esplosione enorme Di Paolo Di Bala Dal punto di vista del carattere Della capacità di determinare in certe gare Della capacità di essere sempre lì a comandare Di essere un leader non solo tecnico in campo Ma anche umorale Io questa crescita ragazzi Francamente fatico a vederlo In tutti questi anni E' mancato sempre in certi appuntamenti chiavi Che dovevano consacrarlo Ma poi ha fatto certe partite Poi arrivava il momento E crollava Non si sa perché Ed è per questo che io vi dico Attenzione Ieri Paolo ha segnato il suo talento Ripeto la sua bravura nel far gol Non c'è Sarebbe da folli Da folli negare questa cosa Io dico solo Se Paolo vuole il bene della Juve Se Paolo vuole rimanere alla Juve A fare il protagonista Deve accettare quella proposta Che gli è stata fatta d'estate Deve accettarla Perché 10 milioni Sono Abbastanza Quest'anno poi E' stato anche un anno particolare per lui Perché era sempre fuori E quando ha giocato Non ha brillato Non ha brillato Noi tutti ci aspettavamo sempre Ma Di Bala Di Bala Di Bala L'esplosione di Di Bala Quando riarriverà Non ha determinato quanto poteva determinare E ci è mancato terribilmente E ve lo dico Perché abbiamo utilizzato Là davanti Delle soluzioni Un po' naif Per ricoprire la sua mancanza Ma questo ragazzi E' fuori dubbio E' fuori dubbio Non è che c'è Anti Di Bala Di Bala Io sono uno che Valuta le scelte Della squadra Vede cosa è questa squadra qua E cerco di capire Cosa potrebbe essere meglio Di Di Bala Per questa Juve E se c'è di meglio Di Di Bala In questa Juve Da mettere dentro Per i prossimi anni Io ragazzi Capisco che tanti si incazzino Oh tu sei anti di balista Sì ma voi ragazzi Siete così Cioè anche quando le cose vanno male Eh ma Di Bala Ragazzi Non è che si vive di credito nel passato Io sono dell'idea Che i giocatori Vanno bastonati sempre Quando sbagliano una partita Vanno bastonati Poi a fine anno Si tira una linea Si fa un bilancio E diciamo Bene Lui cosa può dare Cosa non può dare ancora Cosa ha dato E si fanno tutte le analisi del caso Di Bala L'anno scorso Ha fatto benissimo Per carità E infatti è rimasto Io ho detto l'anno scorso Che non lo avrei venduto così A meno che Fosse arrivato Quel famoso centrocampista Che mi svoltava là Là La situazione È rimasto Paolo Benissimo così Vuole rimanere Benissimo Per me va bene Però Per prendersi questa Juve Totalmente Come dico io Deve fare delle stagioni Alla Federico Chiesa E ripetute Non singhiozzanti Perché ha singhiozzato In certi casi Non prendiamoci un giro In certe stagioni Ha fatto Io ricordo per esempio Un'annata dove ha fatto Tipo 15 gol A inizio stagione Momento di crisi 2-3 mesi E poi è ritornato Cioè Chiesa Si è andato a vedere Il suo andamento Sempre così Sempre in crescita Sempre in crescita Nessun down Sempre su Sempre su È questo Che vogliamo vedere Da Di Bala Siamo più severi con lui Perché ha più talento Di altri E sappiamo Quanto lui possa determinare Per questa Juventus Per il resto Ragazzi Il suo talento è indiscutibile Il suo mancino È indiscutibile C'è proprio C'è poco da discutere Di cosa stiamo parlando Però Insomma Certi atteggiamenti Fuori dal campo Certe prestazioni Altalenanti Quando arriva il momento In cui devi consacrati E devi Boom Spaccare il mondo A volte non lo fai E questa Forse è la delusione Che hanno tanti tifosi Nei confronti di Di Bala E non Cioè Non so se mi capirete O meno Mi interessa poco È una mia opinione Io valuterei La cessione di Di Bala Sì Però deve arrivarmi Un grande centrocampista Giusto per Cioè Se va via Di Bala Deve arrivarmi Un grande centrocampista Uno che mi Prende in maniera E parte E me lo fa svoltare Capite bene che Non è che sto Levando Il buon Di Bala A cuore leggero E non sto prendendo nessuno Cioè Se va via Di Bala Mi aspetto Insomma Un gran giocatore Se dovesse rimanere Di Bala Bene così Bene così L'unica cosa ragazzi Spero che lui Non rimanga alla Juve Per poi andare via a zero Questa sarebbe un'infamata Tanti direbbero Hai visto L'hai trattato male Godo Sì Ma tutte le cazzate E lo storytelling Legato all'amore Per la maglia Della Juve Dimenticatevelo poi Perché non regge più A quel punto Questo discorso Tutto qua signori Vi ripeto Spero che in questo finale Di stagione Riscatti Un pochettino La sua stagione Perché inizio anno Quando ha giocato L'ho fatto male Poi è sempre stato fuori Adesso dia il suo apporto Io ovviamente sostengo tutti C'è Una netta differenza Tra Sostenere E criticare Sempre Sostengo anche Rugani Sostengo anche Bernardeschi Tutti Dalla A Alla Z Poi a fine partita Se c'è da dire Che uno ha fatto cagare Si dice Senza offese Senza Dibalismi Senza delictismi Io sono delicti sessuale Ma se Se fa cagare In una partita Lo dico oggi Caro Matais Hai fatto cagare Poi però Se guardiamo il bilancio Di fine anno Insomma Le pagelle sono diverse Insomma Non si valuta uno In base a un'interrogazione Si basa Sull'andamento scolastico Di tutto l'anno È sempre così Ciao belli Noi ci vediamo domani Probabilmente Perché io sono parecchio Incasinato Qua In quel didorgale Sto facendo un sacco Di commissioni Quindi Sto uscendo fuori di testa Un casino Ragazzi Un casino Magari ci vediamo a sera Se faccio qualche video Strano Se la tarda Beh chissà Ciao belli E sempre fino alla fine Forza Juve Grazie a tutti Grazie a tutti